Il bilancio riceve il sì del Consiglio Comunale di Pescara. In presenza di 23 consiglieri il documento contabile è passato con 20 voti a favore, tre contrari e nessun astenuto. Sì anche all'immediata esecutività. L'approvazione resta l'atto programmatorio più importante dell'ente a cui quest'anno abbiamo provveduto in tempi congrui, ha detto il sindaco Marco Alessandrini. Resta il rammarico dello scavallamento del 31 gennaio, data che ci sarebbe stata utile per attivare ulteriori capacità di spesa. Si tratta di un bilancio tecnico, ha spiegato l'assessore Giuliano Diodati, che intanto ci permette di intervenire sulle emergenze della città, riguardanti soprattutto manutenzione e sicurezza. Polemico il centrodestra. Ci sono voluti oltre 14 giorni alla maggioranza del sindaco Alessandrini per approvare un bilancio tecnico, ha detto il capogruppo di Forza Italia, Marcello Antonelli, che come abbiamo dimostrato da giorni era sbagliato e mai si sarebbe potuto approvare entro il 31 gennaio. Tant'è che il collegio dei revisori dei conti ha espresso un parere favorevole ma con una prescrizione, ovvero il congelamento di circa 250.000 euro relativi ai giochi del Mediterraneo, che il sindaco non potrà spendere fino a quando non verranno chiarite le competenze di spesa. Dunque un altro problema tecnico, l'ennesimo, che testimonia l'incapacità amministrativa del sindaco e del suo esecutivo. Al momento del voto l'opposizione è uscita dall'aula in attesa della maximanovra annunciata dall'assessore Diodati, che ha assunto pubblicamente l'impegno a rifinanziare i capitoli del sociale, della sicurezza cittadina, della cultura e di eventi sportivi.